La vita è un grande giorno che abbiamo diseguito E solo per questo dobbiamo ringraziare ogni giorno Oggi magari qualcuno di noi poteva anche non svegliarsi nei progetti di Dio Noi pensiamo che tutto ci è dovuto, diamo tutto per scontato Allora ecco, perché non dire stamattina a Gesù grazie Grazie che mi dai, mi hai dato la gioia di aprire gli occhi anche stamattina Guardate che il Signore ci tiene in vita, minuto per minuto Se io sono qui e mi muovo, esisto, mi rapporto con voi E perché il Signore mi rigenera ogni secondo E quindi questa è una cosa bella E non dobbiamo avere nessun motivo per spegnere la gioia Lo Spirito Santo che ieri abbiamo ricevuto E che non dobbiamo mai smettere di chiedere Per mantenere come una piantina Diceva ieri padre Roberto Che quando ci allontaniamo dalla preghiera Facciamo poi fatica a ingranare E allora manteniamo questo equilibrio Chiediamo la grazia tutti i giorni Perché ogni giorno il Signore ci apre Ci fa dono di essere in vita E ti dice Monica, Giuseppe, Marco, Francesco, Riccardo, Cambriere Cosa ne vuoi fare oggi di questo giorno Il Signore ci lascia liberi Ma usiamo questa libertà Per rendere grazia, lode, gloria, potenza, onore a Dio Perché noi apparteniamo a Dio Amen